Elezioni 2022, le Gerson Fé, ultime ore prima della consegna delle liste dei candidati che dovranno essere ultimate entro stasera. Il weekend è stato spomeggiante dal punto di vista politico con tanti colpi di scena per completare il tetris delle candidature. Lo sa bene Agnelli, sindaco di Castiglion-Fiorentino, che nel mezzo di una spensierata sbiciclettata da sabato pomeriggio si è ritrovato una chiamata dal leader del Carroccio. Ciao Mario, vuoi candidarti al Senato? Certo, la terza posizione per il collegio proporzionale destinata ad Agnelli non è così competitiva, ma l'interlocutore che ha alzato la cornetta del telefono, niente meno che Matteo Salvini, fa intravedere un'indubbia stima per il primo cittadino. E chissà se ci saranno piani futuri per lui. Intanto nel centro-destra sbuca anche il nome di Bernardo Mennini, segretario provinciale di Forze Italia e presidente ATAM, scelto dagli uomini di Berlusconi come terzo nome per il listino del Senato, guidato dal senatore uscente Berardi. Confermata invece la rumorosa esclusione per Fratelli d'Italia di Francesco Macri, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dalla candidatura per il collegio di Arezzo, poi soffiata dalla sottosegretaria al welfare del governo Draghi, Tiziana Nisini. E' andata bene invece a Letizia Giorgiani, presidente del gruppo Vittime Salvabanche, che dalla sua pagina Facebook ha annunciato la sua candidatura nel listino proporzionale per la Camera. Se me ne sarà data la possibilità sarò con più forza portavoce di quelle vittime invisibili. E a proposito di Banca Etruria sfuma il nome di Maria Elena Boschi, candidata invece in Calabria, Roma. Al suo posto è stato indicato dal terzo polo il nome di Lucia Cherici, avvocatessa retina e portavoce di azione nella provincia, sempre nell'orbita di Renzi e Calenda. E' stata poi scelta per il listino proporzionale per la Camera la Val d'Ambrese Benedetta Frucci in quota Italia Viva.